E' arrivato il momento di svappare, svappo web! Il capo della polizia con una recente circolare ha stabilito dei dettagli molto precisi su come organizzare e autorizzare le manifestazioni su aree pubbliche. Diversamente da prima, dove c'era un tetto di 200 persone, ora non c'è più, almeno da quello che è stato possibile interpretare dalla circolare, un tetto di 200 persone dove poter derogare dal rispetto di certe condizioni di sicurezza. La circolare stabilisce sostanzialmente, delinea due concetti, questo safety e questo security. La safety è la fase organizzativa, la security è la fase mediante la quale le forze di polizia devono garantire questi controlli. Quindi sostanzialmente vanno ben delineate le aree dove si svolgono queste manifestazioni, individuando il numero dei partecipanti, il controllo di chi è preposto al controllo degli ingressi e stabilire il numero entro il quale poter bloccare l'accesso a quelli in soprannumero nelle aree di manifestazioni. E in più, individuare bene le responsabilità, oltre all'intervento e le prescrizioni in materia di sicurezza antincendio e quant'altro, materie che comunque già prima erano ben disciplineate. Come ci stiamo organizzando? Ogni comune dovrebbe avere una commissione locale per far fronte al rilascio delle autorizzazioni di queste manifestazioni. Il comune di San Martino sta in itin e in itin nella costituzione di questa commissione dove stabilire per ogni zona dove in genere si fanno le manifestazioni quali sono le prescrizioni e a quali adempimenti l'organizzazione deve adeguarsi per poter garantire in sicurezza la manifestazione. Certo sono vincoli molto restrittivi, leggevo pochi giorni fa del caso di Siene, insomma il Palle di Siene fino ad oggi ospitava Piazza del Campo 40.000 persone, se ho letto bene da notizie giornalistiche mi sembra che oggi potrà ricevere soltanto 15.000 persone, peraltro limitando l'accesso ai bambini. Quindi questo comporta un'organizzazione maggiore, con più esigenza. Questa cosa però ormai e anche a livello nostro, anche per le piccole manifestazioni, si dovranno rispettare delle regole ben precise. Comandante, per chiudere, chi volesse organizzare un evento? Quindi come si deve comportare? Deve prima cosa preoccuparsi prima, cioè almeno un paio di mesi prima cercare già di creare il procedimento per essere autorizzato. In questa fase c'è una parte che compete all'organizzazione e c'è una parte che compete a noi come pubblica amministrazione farci carico e in questa prima fase aiutare l'organizzazione alla costruzione del procedimento per arrivare all'autorizzazione finale. Grazie a tutti.